La chiesa dentro. San Giovanni, saliamo su, eh? Castello, dove c'è l'acqua c'è un castello. Facciamo gli scalini. Tantissimi scalini, eh? Se avete coraggio, venite su. Tantissimi scalini. Tantissimi scalini. Tantissimi scalini. Tantissimi scalini. Tantissimi scalini. Tantissimi scalini. Mulle vado a order la rotazione. Primuli scalini. C'è un po' daisolo. hai vista quella mano lì che bella che è? eravamo già stati tutta ora la mano qua che bella sta attento di chi ti va aprono solo il pomeriggio no? ah si comunque aperto? ma c'è un custode? si si